c'è qualche telecamera non so dove no qui 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 corrido abbiamo buttato nel cesso no quant'è stupido capitano è l'ultimo è qui è l'ultimo se lanci un drone lontano te lo controllo io che culo aspetta dove cazzo è il drone arriva 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 grandissimo quando fai queste cose davvero qualcosa di quando fai queste cose io caccio il cazzo da fuori c'ho sbatti il cazzo sta da stile madonna santo porca